Un problema grave e reale, quello denunciato da Simone Tempesta, sindacalista della Fialz Confsal. Un problema che riguarda la ripartizione del budget per la riabilitazione residenziale, che costringe spesso molte persone ad andare a curarsi per la riabilitazione ad altre asle e in altre strutture. La ripartizione, secondo Tempesta, penalizza l'Aquila. Le prestazioni delle persone che vanno a curarsi altrove vengono pagate, peraltro, e si arriva così, secondo il sindacalista, ad un disavanzo di 3 milioni di euro l'anno, che potrebbero invece essere impiegati per fare servizi più efficienti ed efficaci sul posto. La ripartizione del budget per la riabilitazione residenziale in Abruzzo è di circa 60 milioni di euro. La ripartizione darebbe una quota pro capita di circa 45 euro. Quando viene fatta la ripartizione per le varie asle, invece, succede che all'asle di Teramo vengono assegnati 56 euro pro capita, all'asle di Chieti 54, a quella di Pescara 46 e a quella dell'Aquila 21. Questa ripartizione fa diminuire notevolmente il budget, quindi anche i posti che vengono messi a disposizione per gli utenti per fare riabilitazione. Quindi una volta che i posti sono esautorati, il malato che non trova posto è costretto ad andare in altre asle. Guardate che questo è un problema vero perché le prestazioni che vengono fatte dai residenti dell'Aquila in altre asle vengono pagate e questo genera un disavanzo di circa 3 milioni di euro l'anno. Intanto è stato chiesto pure un incontro all'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri per poter parlare di tutte le problematiche che riguardano l'asle. Sì, abbiamo chiesto un incontro per parlare di tutte le problematiche che riguardano questa asle. Vale a dire l'invecchiamento del personale dipendente, l'esagerato utilizzo di personale interinale. Quasi il 70-80% del personale è diventato interinale. Ci sono degli interi turni che sono fatti da dipendenti interinali professionalmente preparati, però hanno dei contratti che hanno scadenza di un mese. Quindi vengono rinnovati molto spesso e appena trovano un nuovo posto di lavoro si trasferiscono.